Buonasera da Ingemiadibus, forse lo riconoscerete, Fernando Pessoa, gloria letteraria nazionale portoghese e non solo, uno dei maggiori scrittori europei del Novecento. Era solito passare qui nel quartiere Ciado al caffè a Brasilei da moltissimo tempo. Il caffè è uno dei più antichi di Lisbona del 1905, ha omaggiato in occasione del centenario della nascita dello scrittore nel 1988, l'ho omaggiato con una statua. Le tracce di Pessoa a Lisbona sono tantissime, si trovano nei suoi libri, al monastero di Geronio c'è la sua tomba e questo cappè sicuramente lo ricorda in maniera legna. Quindi, contattate i gioviati, forse anche per i caffè letterari e per qualsiasi altro poche di interesse storico, naturale, altruistico del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.